Scadranno il prossimo 24 febbraio le iscrizioni alla nuovo Master in Materiali Innovativi per Economia Circolari, promosso dall'Università di Camerino in collaborazione con sei prestigiose realtà industriali marchigiane. Diretto dal professor Roberto Gunnella, docente della sezione di Fisica della Scuola di Scienze e Tecnologie di Unicam, il Master rappresenta un percorso di studi unico in Italia che colma una lacuna nella preparazione specifica di metodo o di approccio nel settore dei materiali e del loro recupero. Ma sentiamo. Lavorare per l'economia circolare significa con una battuta non fare prigionieri, quindi non avere degli scarti ma avere delle materie prime e secondarie dalle quali si può ottenere un valore aggiunto e non produrre danno né per l'ambiente né per la nostra salute. È chiaro che in un Master come il nostro è molto importante fare questo processo di avvicinamento alla sostenibilità dei materiali, che è un processo difficile ma è un processo anche che ci stimola molto a cercare di trovare le migliori soluzioni per evitare la produzione di scarti e per avere delle idee sempre migliori, per avere delle materie prime e secondarie che producano valore aggiunto per noi tutti.